Mister, ci troviamo qui a commentare una vittoria fatta in un derby infinito, fatta davanti a uno spettacolo squallido, perché due squadre che giocano così bene al calcio, una partita del genere non può non avere pubblico oggi. Assolutamente, è mancato solo il pubblico. Per il resto è stata una partita da Lega Pro, secondo me. Abbiamo battuto una squadra superba, sul 4-2 al novantesimo ci credevano ancora. Questa è una vittoria che vale veramente tantissimo dal punto di vista morale, al di là della classifica, una classifica conta poco alla settimana di campionato. Questi ragazzi sono straordinari, perché nelle nostre condizioni vincere questa gara non era semplice, con un centrocampo tutto fuori. Michele si è sacrificato in un ruolo non suo, Gerardi ha la seconda gara titolare, Rossetti, anche lui, ha giocato in un ruolo che può fare, ma non è il suo. Sono stati sontuosi, tutti quanti li ringrazio e ci hanno regalato un'altra grande giornata. Mister, come hai detto tu, oggi eravamo a fronteggiare assenze importanti come quelle di Conte, quelle di Mastrani, soprattutto in mezzo al campo. Hai preferito l'esperienza di Michele Ciano, il nostro capitano, mettendo Vitaliano Rossetti, che ha risposto alla grande, nonostante comunque abbia giocato pochissimo. Si è stato titolare, mi sembra, soltanto con la Cavisa in Coppa Italia. Sì, assolutamente. Nel momento in cui Conte in rifinitura ci ha creato problemi. L'unica soluzione, al di là che magari ci potevamo inventare altre cose, però quella soluzione più affidabile era Michele Centrale. A questo punto si è liberato sull'esterno il posto. Ho preferito quindi mettere l'under come quinto e quindi giocare con i tre over, perché sapevo che di fronte avevamo una corazzata che aveva una fase offensiva veramente importante e quindi mi sentivo più sicuro con i tre over. Nonostante questo abbiamo preso tre goli, quindi figuriamoci se avessimo giocato, voglio dire, con Rossetti in una posizione un pochettino più delicata, anche se oggi Rossetti credo sia stato il migliore in campo. Dove vuole arrivare questa squadra? Io non lo so, dobbiamo capire dove vogliamo arrivare, perché gli avversari sono forti. Se ci creiamo problematiche anche noi dall'interno, allora non lo so dove possiamo arrivare, sinceramente. Noi dobbiamo stare calmi, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo renderci conto che siamo una squadra che deve vivere alla giornata. Non ci creiamo problemi all'interno, perché altrimenti è un peccato rovinare questa splendida avventura che abbiamo iniziato.